Oggi c'è questa conferenza stampa in comune per parlare delle ultime aggressioni che ci sono state a Pescara. C'è preoccupazione da parte vostra anche per eventuali ripercussioni politiche che ci potrebbero essere per quello che è accaduto? Io penso che assolutamente l'Ampi deve essere protagonista in questo momento per rispolverare quelli che sono i valori della resistenza. L'Italia che è nata dopo la resistenza è stata impostata da quelli che sono stati partigiani per dei diritti, per salvaguardare la libertà personale di tutti in base alle loro scelte. La Costituzione è il faro di questi valori. Dobbiamo ricordare, dobbiamo essere presenti e tutte le forze politiche devono assolutamente essere protagoniste e unite in questo momento. Questi episodi non devono accadere e le forze associative e politiche neofasciste devono assolutamente essere stigmatizzate perché non si può ricadere in un qualcosa che abbiamo superato 70 anni fa e passa. Siete preoccupati per quello che è accaduto? Sì, siamo preoccupati perché sinceramente era parecchio tempo che non accadevano episodi di questo tipo. In questo momento di grave crisi economica e sociale purtroppo determinati movimenti riescono a attecchire, a fare leva sulle paure e sull'insoddisfazione della gente. Ed è per questo che qualcosa deve cambiare e deve cambiare nel senso e nel percorso che è stato tracciato dalla Costituzione del 1948. Grazie 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 Grazie